Vai, 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 vai! Uh, Slice! No, no, qua non c'è niente sul nuovo cucciolo. E tu non lavori? Sono molto impegnato a delegare. E vai in buca! E quando troviamo il fascicolo sul nuovo cucciolo, che facciamo? Mandiamo i Baby Ninja? Anche meglio, scriverò una circolare perfetta. Boom! Boom! Aspetta, cos'è una circolare? Una circolare è qualcosa che scrivi per informare le persone. E questo è il tuo piano, scrivere un tema! Che barba! No, Templeton. Le circolari sono per cose importanti. Una circolare può radunare leggenti. Una circolare può essere una chiamata alle armi. Un manifesto. Un poema. Una circolare può cambiare il mondo. Wow! Quando la spieghi così, sembra lo stesso una barba. Imparerai, caro. Imparerai. Aspetta un attimo. Eccolo qui! Cosa? Che cos'è? Guarda! Porta tuo figlio al lavoro con te! Le persone portano i figli sul posto di lavoro. Perché? Perché è stupendo! È un schifo! Non capisci! Possiamo entrare alla Papico e scoprire cos'è il nuovo cucciolo! A che pro! Sei in castigo! I tuoi non ci porteranno da nessuna parte! Oh, hai ragione! Loro pensano che ci odiamo! Odio è una parola grossa! È la parola giusta però, dai! Dobbiamo convincerli che ci sentiamo davvero fratelli! Giusto! Che noi ci... Detestiamo? No! Piacciamo? No! Che noi ci vogliamo! no impossibile no non puoi dire che ci vogliamo bene ho ricurgitato e ringhiottito uno spaghetto ecco che arriva il trenino ciuh 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 no born spazio email 10 masticata談à sono armato di racchetta che se Xiaomi qui non solo la fa palbe be ci guardano ciuccio ok ciuccio in stazione non mi vesto da marinaretto non è neanche festa da bravo lo indosserei vuoi costringermi? non puoi costringermi, teppista che cosa mi hai fatto? torna qui no, scordate no, bravo Tim, che cosa state facendo? oh no ehi, cos'è questo chiasso? oh, non è adorabile oh, neanche per te è uno a bordo marinaglio cosa? perdente sorridete sorridi per la foto mi fa sentire un debole solletico, solletico non funziona con me qui? è un punto morto quello dai, tutti hanno un punto solleticoso ahaha Ahahahah!